Lo stop all'impianto di Acerra non deve diventare terreno di scontro ma un'opportunità per innescare finalmente un modello virtuoso di raccolta differenziata e di riciclo in Campania che porti ad uno sviluppo dell'economia circolare. Legambiente Campania invita cittadini e comuni ad aderire alla nuova campagna Io non conferisco, lanciata nelle ultime ore in vista del fermo del termovalorizzatore. L'obiettivo quello di abbattere le 80.000 tonnellate di indifferenziato che tra settembre e ottobre saranno parcheggiate in siti di stoccaggio e senza la possibilità di essere smaltite proprio a causa del blocco dell'impianto. Una sfida possibile a una quantità che si può ridurre sensibilmente che potrebbe portare a diminuire i giorni di conferimento destinati all'incenerimento, così ha dichiarato ai nostri microfoni Michele Bonomo, segretario nazionale di legambiente. Nei comuni più virtuosi della Campania infatti i rifiuti urbani indifferenziati vengono raccolti solo due volte al mese mentre in molti comuni si raccolgono due volte a settimana. Noi dovremmo fare di necessità virtù, in realtà già in questi giorni notiamo per strada un aumento dell'indifferenziato, dei rifiuti destinati all'incenerimento, una peggiore raccolta differenziata. Bene, bisogna invece invertire questa tendenza, cogliere l'occasione della chiusura dell'impianto di incenerimento di Acerra per circa 40 giorni per dire possiamo fare meglio, possiamo fare una migliore raccolta differenziata e possiamo soprattutto ridurre la produzione di rifiuti. Consideri noi abbiamo fatto questo calcolo che se ogni cittadino campano risparmiasse l'equivalente di una bottiglia di plastica al giorno, è meno indifferenziato, la bottiglia raccolta meglio, noi avremmo ogni giorno una produzione di rifiuti di 28 tonnellate in meno, moltiplicate per il periodo della chiusura di Acerra potremmo arrivare ad oltre 2000 tonnellate. Qui l'idea di Legambiente di lanciare la campagna io non conferisco. Io non conferisco, è una campagna rivolta ai cittadini perché conferiscano di meno, conferiscano meglio, ma anche alle amministrazioni perché noi abbiamo notato che lì dove la raccolta dell'indifferenziato si fa una volta alla settimana o addirittura una volta ogni due settimane come succede ad esempio a Baronissi, si ha una riduzione drastica del rifiuto non riciclabile. E quindi invitiamo i cittadini a questo gesto che dovrà durare non il tempo della chiusura di Acerra ma in modo indefinito. Questo è un ulteriore passo in avanti per superare la logica dell'incenerimento altro che un inceneritore per ogni provincia. Noi vorremmo che gli inceneritori si riducessero drasticamente che quello campano potesse in prospettiva venire superato. Quello di Acerra si può fare. La realtà è che a volte si pensa a fare investimenti per portare in altre regioni i nostri rifiuti a costi altissimi e invece dobbiamo ridurre e soprattutto razionalizzare. L'ultimo appello è quello di dare il via finalmente a un sistema di impianti di compostaggio utilissimi indispensabili alla nostra regione e alla nostra economia.